Che vuoi? Seconda cicogna in arrivo per una storica ex corteggiatrice di uomini e donne Un ex corteggiatrice di uomini e donne ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Cancelletto Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti in tv. Una trasmissione in onda tutti i giorni alle 14.45 su Canale 5, ma che ottiene sempre degli ottimi risultati in fatto di Auditel, ultimamente soprattutto grazie al Trono Over. Molti personaggi sono diventati famosi dopo aver partecipato al talk show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra questi c'è sicuramente Cancelletto Giorgio Alfieri, il beltronista che nella stagione 2006-2007 decise di uscire dagli studi di uomini e donne insieme allex corteggiatrice Cancelletto Martina Luciani. La scelta di Giorgio Alfieri è ricordata come una delle più stravaganti. L'ex protagonista di Campioni, Il Sogno, infatti, la scelse andandola a prendere sotto casa con tanto di megafono e limousine. Un momento divertente anche quello del viaggio post scelta a Venezia e Firenze, dove i due si mostravano particolarmente complici, affiatati e innamorati. Il loro amore era così forte che nel 2008 hanno dato anche vita a una splendida bambina di nome Asia. Successivamente, però, dopo diverse rotture e riavvicinamenti, la coppia ha deciso di prendere strade diverse nel 2016. Per fortuna adesso entrambi sono felici e sereni. Giorgio Alfieri continua a rimanere single e a dedicarsi anima e corpo alla sua piccola Asia. Martina Luciani, invece, è fidanzata da due anni con Patrizio Pascucci, calciatore e consulente assicurativo. Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia inaspettata proprio sull'ex corteggiatrice di Roma. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e le ultime news sui due ex protagonisti di Uomini e Donne. Martina Luciani incinta, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne felice e innamorata. L'amore tra Martina Luciani e Patrizio Pascucci a quanto pare è più forte che mai. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne mostra il suo pancione fiera e visibilmente felice. Martina Luciani è incinta dunque, e sembra più felice che mai. La romana sarebbe al quarto mese di gravidanza e, per adesso, non sa ancora se Asia avrà una sorellina o un fratellino. A dare lo scoop è stato il blog Isaekia.it che ha pubblicato una foto di Martina con il pancione. Dopo anni di tomenti amorosi, Martina ha trovato la sua dolce metà e sta finalmente vivendo una storia d'amore da favola. Non ci resta che attendere per scoprire il sesso del nascituro e per sapere quale sarà la reazione dell'ex compagno di Martina Luciani, Giorgio Alfieri. .